Dobbiamo partire da un'immagine scattata in pieno giorno, ognuno ha la propria, si prestano bene quegli scorci di città dove possono esserci delle situazioni che nella simulazione del notturno potremo illuminare. Apriamo la finestra dei livelli, prima cosa, quindi menu finestra e ci spuntiamo livelli e qua aggiungiamo un livello di riempimento, quindi icona centrale il pallino dove andiamo a spuntare tinta unita e dove riempiremo con una tonalità che si avvicina al nero, io mi metto nell'angolo, però è possibile anche scegliere altre tonalità, c'è chi predilige il blu per queste cose, vediamo che cosa succede in questo modo, quindi confermiamo e abbiamo inizialmente questa manifestazione, riducendo l'opacità possiamo fare emergere un pochettino quella che è la nostra immagine originale e dobbiamo crearci l'atmosfera, quindi quella simulazione di luci accese che fanno la differenza, quindi il livello di sfondo va duplicato, si attiva, si trascina nella seconda icona in basso a destra, o punto ctrl j a tastiera e lo spostiamo sopra, quindi tenendo cliccato trasciniamo e spostiamo. Questa immagine va ingiallita parecchio, questo perché ci servirà proprio come base per ricreare le aperture di luce, quindi applichiamo un livello di regolazione, quindi ancora pallino centrale e ci spuntiamo bilanciamento colore. Con bilanciamento colore esageriamo verso il giallo, questo perché sono quelle tonalità e anche un po' di rosso magari, quelle tonalità che si prestano per queste luci di lampioni o così un po' storici e chiudiamo per togliere confusione. Se vogliamo che sia ancora più intenso aggiungiamo un altro livello ancora di regolazione, quindi pallino centrale e questa volta tonalità e saturazione, dove possiamo anche influire sulla saturazione del colore, quindi caricarlo un bel po', poi eventualmente si può ridurre successivamente se ci accorgiamo di aver esagerato. Chiudiamo e colleghiamo questi livelli soltanto al livello dell'immagine duplicata, quindi ci posizioniamo in corrispondenza della separazione tra un livello e l'altro, alt a tastiera e clic per associare questo controllo al sottostante e stessa cosa con quell'altro, lo attiviamo, ci posizioniamo sulla riga, alt clic, questo servirà ad applicare questi interventi soltanto al livello sottostante. Adesso il gioco sarà di far tornare buio tutto quanto e di creare aperture con una maschera di livello, quindi attiviamo il livello dell'immagine che abbiamo qua in mezzo e aggiungiamo una maschera di livello. La invertiamo perché parte di default in bianco, quindi CTRL-I a tastiera per far tutto nero, dove dipingendo in bianco si vedrà la manifestazione della colorazione gialla. Quindi ci serve un pennello che andremo a scegliere da qui e da qua la scelta sarà su un pennello rotondo e sfumato e con le dimensioni naturalmente adeguate a quella che è la nostra esigenza, quindi parto magari con un pennello grande per le zone più ampie e poi ridurrò per le zone più piccoline. Chiudiamo anche questo per togliere la confusione con il pennello, il colore bianco, quindi dobbiamo invertire da colore di primo piano nero a bianco e questo pennello che andremo a ridurre un bel po' in opacità, quindi da qua vuol dire che non lo useremo al 100% ma doseremo il suo intervento con una lieve manifestazione. E quindi inizieremo a dipingere dove vogliamo che ci sia luce, magari possiamo abbassare un po' l'opacità qua del livello nero per vedere dove andiamo a intervenire, come intervenire, così riusciamo a capire meglio e ritorniamo sulla maschera, quindi va attivata e iniziamo a dipingere, quindi il nostro fare emergere la luce naturalmente dipenderà dalla situazione. Io qua faccio questo tipo di intervento facendo finta che in questa area ci sia più sopra un lampione acceso, non lo vediamo nella fotografia ma può essere comunque la sua luce che si manifesta in questo modo. Poi ho una immagine con un arco, quindi ci può star bene avere la zona luminosa davanti per avere poi in profondità invece l'oscurità e l'apertura nei lampioni. Tutto si può recuperare se vediamo che esageriamo, se non ci è venuto bene quello che stiamo facendo, possiamo riprendere il nostro lavoro. Poi possiamo anche giocare a far finta di dipingere l'estensione di questi lampioni che non si vedono e quindi magari dosare un po' questa apertura anche in altre aree. Poi abbiamo i lampioni veri e propri, oppure in questa immagine ci sono i lampioni veri e propri e qua conviene zoomare un po' per lavorare meglio e quindi concentrarci in quelle che sono delle porzioni piccole, quindi andrà ridotto il pennello e da qua riduciamo per lavorare sui dettagli piccoli creando l'apertura naturalmente dove normalmente il lampione è acceso e oltre alla sua luce, quindi la luce che crea ci sarà anche un fascio che questo lampione proietta, quindi ancora un altro pennello con la dimensione che ci serve e proviamo a inventarci quello che è il suo fascio di luce, quindi potrà essere orientato un po' a cono verso il basso e in questa zona fino a un certo punto per poi riprendere in basso qui dove arriverebbe un po' nella zona bassa, nella zona dell'asfalto e così, usando il suo intervento anche simulando la caduta di luce sul cono. Poi una cosa che si è vista in apertura, c'era una porta aperta, quindi qua è stata creata un'apertura di luce come se questa porta fosse aperta e una luce dall'interno si proiettasse verso l'esterno e qua facciamo la stessa cosa, adeguiamo il nostro pennello all'esigenza, quindi se io ho questo arco, questo portone che potrebbe essere aperto, apro in questo modo, con X inverto da colore bianco a nero e questo per recuperare magari in quelle parti in cui mi è scappato un pochino troppo e quindi farò questa cosa qua per naturalmente stare all'interno del bordo. Mentre faccio il tutorial naturalmente non posso essere eccessivamente preciso per non impiegare più tempo, dopo ognuno avrà il tempo che gli serve per fare il suo lavoro e qua creiamo l'apertura invece della luce che si proietta sulla strada, quindi questo fascio di luce cercheremo di andare abbastanza diritti e naturalmente di far sì che possa sembrare credibile. Diamo un'occhiata un po' generale a quello che abbiamo fatto e poi riportiamo l'opacità del livello di riempimento scuro a un livello più alto, questo perché dobbiamo inventarci il nostro notturno illuminato, dove abbiamo esagerato un pochettino, qua io ho un po' esagerato con l'intervento in queste zone dove è troppo marcato, possiamo riprendere con il pennello, eccolo qua, attivare la maschera dove abbiamo lavorato per creare le aperture e invertendo, quindi riportando ancora su nero, magari con una dimensione più grande di quella che abbiamo utilizzato per gli interventi, con il nero e ancora l'opacità bassa, magari riprendiamo un po' dove c'è scappato eccessivamente la nostra apertura e cerchiamo di simulare naturalmente una cosa fatta un pochino meglio, qui magari riprendo un po' per dare più luce nella parte davanti e anche qua, ecco che i miei lampioni che non si vedono hanno portato luce ancora qua più avanti, se vediamo che è ancora troppo esagerato, perlomeno io vedo che è esagerato quel che ho fatto, chiedo scusa, inverto qua, farò ancora un intervento sopra per attenuare la prima operazione e naturalmente con un po' di calma cercare di arrivare al mio risultato ottimale.